Benvenuti, eccoci qui a dire due parole di approfondimento su quel che sta succedendo e del successo in Banca Bene, Bene Banca, di recente in seguito al suo commissariamento. Due parole che sono d'obbligo perché immagino che questa notizia all'interno proprio del settore del credito cooperativo, in particolare fra i laboratori del credito cooperativo piemontese e della Liguria e della Valle d'Aosta, cominci a avere acceso alcune curiosità, alcuni sospetti, alcun tantam. Quindi vale la pena magari dire due parole come organizzazione sindacale in merito alla questione. Il tema è quello della, sembrerebbe che sia il commissariamento, la conseguenza dell'ispezione di Banca d'Italia che a sua volta è conseguenza, pare, della segnalazione del collegio sindacale di alcune irregolarità nella tenuta dei conti della banca. In particolare stiamo parlando della voce di bilancio sulle rettifiche crediti che si suppone non fossero troppe e la banca fosse stata troppo ligia a indicare quali queste fossero. In conseguenza questa segnalazione, in conseguenza l'ispezione di Banca d'Italia, il Ministero delle Finanze nel pieno del suo potere, delle sue possibilità, ne dà il commissariamento. Il commissariamento ha lo scopo di fare in modo che la banca al più presto, il più breve tempo possibile, tempo indicativo un anno, metta a posto i suoi conti, sulla sua tenuta dei conti, faccia tutte le verifiche e le operazioni necessarie a mettersi in sicurezza. Dopodiché appunto il commissariamento cessa e la banca prende le sue conseguenze, le sue decisioni. Ovviamente questo è un esito possibile, ma non è l'unico esito possibile. Potremmo trovarci di fronte alla fine della banca, bene banca per come l'abbiamo sempre conosciuta, all'inizio di qualcos'altro, magari una fusione, o magari di alcune altre scelte più radicali allo scopo di mettere in sicurezza la tenuta dei conti e allo scopo di garantire i risparmi dei soci della banca. Questo episodio non è un episodio separato, singolare, individuale. Intanto è una cosa che in tutta Italia di recente abbiamo visto accadere sempre più spesso ed è, secondo me, in maniera anche fin troppo evidente, il segno di una crisi che sta coinvolgendo il settore dell'archivio operativo italiano ed è arrivata a casa nostra, è arrivata alle porte di casa nostra. Ritengo che centri la crisi non soltanto per demagogia, ma perché proprio le rettifiche crediti sono il segnale, cioè sono la grandezza economica che la banca mette nel suo bilancio a compensazione di quegli errori, di quei problemi che sono nati all'interno dei suoi conti e in conseguenza il peggioramento degli impieghi che ha erogato. E questo non è successo perché la banca è brutta e cattiva. Certo, in qualche caso, magari sarà mancata la longimiranza, ma in molti altri casi questo effetto è figlio del momento che stiamo vivendo. Ed è interessante, ed è clamoroso, se vogliamo, da un certo punto di vista, che proprio questa voce delle rettifiche crediti fosse una delle pietre dello scandalo, se non la pietre dello scandalo all'interno del nostro contratto nazionale appena passato firmato. L'uomo è la chiave sulla quale si impagnavano le preoccupazioni di tutte le banche. In quel caso era nell'erogazione dei primi di produttività ai colleghi, ma era evidente che c'era un interesse su quella voce lì, una particolare preoccupazione su quella voce lì. Ed è molto bello che siamo riusciti a cogliere questa richiesta, a portarla dentro il contratto e rafforzare tutte le tutele e sicurezze per i lavoratori, per le banche che si troveranno nella crisi. Ora, ovviamente non mi fa piacere che, e mi sono molto dispiaciuto, e sono vicino ai colleghi di Bene Banca in questo momento qui, perché penso, immagino che si sentiranno meno tranquilli, meno sicuri. E voglio portare a loro questo messaggio anche per dire loro per fortuna che abbiamo un contratto nazionale nuovo, per fortuna che qualcuno ha pensato di rifornire la banca di tanti strumenti, tra i suoi quali garantire i posti di lavoro, tra i suoi quali innovare la struttura della strumentazione contratuale e proprio in virtù del fatto che sapevamo che ci saremmo trovati in situazioni del genere. Poi è chiaro che la causa scatenante in questo caso, il collegio sindacale, e la motivazione in questo caso, le rettifiche sui crediti, può non dare, e speriamo non lo dia, effetti o preoccupazioni sul piano dell'occupazione dei lavoratori. Ma quello che vorrei dire è che per fortuna, se anche questo dovesse accadere, abbiamo tutta la possibilità di gestire la crisi, non dico con serenità, ma con tranquillità, con sicurezza, tranquilli che tutti i lavoratori diventeranno nel posto di lavoro, tranquilli che esistono mille modi per agevolare la banca per facilità nella fuoriuscita da questa situazione, e siamo ben contenti di aver premuto e spinto tantissimo durante l'assemblea, durante la trattativa, affinché si comprendesse al pieno che non ci interessava in questa fase storica tanto spingere per ottenere chissà quale incremento economico sugli stipendi lavoratori, ma volevamo assolutamente aumentare le tutele e il salvagente, perché sapevamo che un settore bancario del credito operativo avrebbe cominciato a segnare la crisi, persino nei luoghi più lontani, più protetti. E' chiaro che la più debole, una delle più deboli delle nostre realtà, ha cominciato a dare segnali di scompenso, e noi siamo in grado, siamo perfettamente in grado di gestire la questione attraverso un'azione consapevole, anche se questo dovesse coinvolgere la vostra, cosa che per il momento non sembra essere il punto centrale. Quello che mi preme sottolineare è che è iniziata una nuova fase sindacale, non più soltanto dettata dalla contrapposizione sindacale tra i lavoratori e i datori dell'azienda, perché nei momenti di crisi, come per esempio questa crisi di bene banca, si evidenzia anche troppo chiaramente che i destini dei lavoratori e dei datori di lavoro sono perfettamente agganciati. E quindi è stupido ed è limitante pensare che tutto si possa risolvere tra una contrapposizione tra i lavoratori e i datori. In questo caso la barca deve reggere, e deve reggere per bene tutti e due questi partner in questa transazione. Sono contento che questo contratto abbia dato gli strumenti affinché si abbattessero delle barriere storiche fra azienda e lavoratori e si siano create le condizioni per il superamento di queste distanze al fine di collaborare, di cooperare meglio e di poter aiutare proprio nei momenti di crisi il meccanismo a ripartire. Ci auguriamo quindi che la situazione qui non sia grave, ma sia uno scossone all'interno della federazione piemontese e che poi tutto riprenda ad andare come era prima. sappiate che comunque, anche qualora si verificasse il caso che questa situazione sia un prodromica di qualcosa di più grave o sia un segnale di qualcos'altro che potrebbe andare a male all'interno del settore, i lavoratori del credito cooperativo piemontese sono al sicuro, sono salvi, sono garantiti da una struttura di norme nuova, innovativa, un impianto che abbiamo voluto pochi mesi fa e abbiamo ottenuto, pochi mesi l'abbiamo voluto, più di un anno e mezzo fa ma abbiamo ottenuto pochi mesi fa per tutelarci. Quindi non dico che dovremmo essere sereni, però se non altro sappiamo che possiamo lavorare seriamente, continuare a lavorare seriamente perché siamo garantiti da nuove norme che ci tutelino. Aspetta a noi adesso andare avanti su questo cammino tracciato dal contatto nazionale attraverso le nuove commissioni, attraverso l'istituzione del Fondo per l'Occupazione che ha proprio tra gli altri scopi quello di garantire i lavoratori del nostro settore, faremo la nostra parte e collaboreremo con le aziende che seriamente vorranno affrontare il problema e risolverlo in questo periodo di crisi. Un saluto a tutti e buona giornata.